Sono 194.000 gli stranieri che vivono in regione Campania. Il numero si è quadruplicato negli ultimi 12 anni con una concentrazione maggiore che riguarda le province di Napoli, Caserta e Salerno. Il dato conferisce alla regione il primato del mezzogiorno. Circa il 30% dei migranti del meridione infatti vive in Campania. Quasi del tutto residuale invece la presenza in Irpinia e nel Sannio. Ad Avellino gli immigrati sono il 4,2% del totale, a Benevento il 2,3%. Sono queste alcune delle cifre contenute nel corposo rapporto statistico sull'immigrazione, il ventiduesimo, presentato presso la prefettura di Avellino dalla Caritas e dal Centro Studi Migrantes. Al tavolo dei relatori, oltre agli autori del rapporto, il preferito Umberto Guidato, il direttore della Caritas di Avellino Carlo Mele, il vescovo Marino e il sociologo Rauti. Dall'indagine emerge come le comunità più popolose siano quelle ucraine e marocchine, ma in tutto le nazionalità presenti sono 174. Il 51,4% degli extracomunitari è donna. Come sempre, quando si parla di immigrazione si parla anche di integrazione. Dal dibattito è emerso che il principale problema per chi arriva nella nostra regione è la casa. È da qui che comincia il lento e faticoso cammino per l'inclusione sociale dei lavoratori extracomunitari. Subito dopo c'è la questione della residenza, condizione essenziale per usufruire di servizi oppure adempiere a qualsiasi procedura burocratica. Unanime, infine, dalle autorità civili come da quelle religiose e accademiche, l'appello a respingere qualsiasi forma di discriminazione o razzismo. Ciao! 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 Grazie a tutti